perché abbiamo necessità di dare qualche comunicazione importante urgente lo facciamo con una bella diretta così ci potete seguire tutti quanti buongiorno buongiorno a voi buongiorno a tutti io sono in viaggio per palermo in questo momento sto andando all'assemblea regionale siciliana però ho la necessità ovviamente di darvi alcune informazioni importanti e che soprattutto ci devono ci devono far capire come la situazione sta evolvendo innanzitutto avrete visto ci sono due comunicazioni importanti che voglio dare avrete visto come negli ultimi giorni il numero dei contagi è notevolmente aumentato ci sono due dati di cui vi voglio parlare il primo è rappresentato dal fatto che nell'elenco delle persone positive che ho modo di visualizzare ho visto che ci sono molti molti giovani molti ragazzi che hanno un età anagrafica che va dai 15 ai 25 anni questo perché questo dimostra un fatto che soprattutto mi dispiace doverlo dire da parte dei più giovani c'è un rilassamento che non va bene ci sono dei continui assembramenti sul lungomare spesso sulla nazionale nella nostra comunità di santa teresa e non va assolutamente bene ho chiesto più volte ai vigili di intervenire ma nonostante i nostri interventi nonostante i nostri richiami è chiaro che però purtroppo i vigili non possono essere ovunque queste situazioni si verificano e davanti alle attività commerciali spesso e volentieri i nostri vigili fino a oggi sono hanno fatto dei controlli anche presso le attività commerciali per segnare il numero delle persone che possono stare all'interno ma non solo per evidenziare tutta una serie di anomalie l'asporto è asporto non è asporto e consumo all'interno perché non si può fare ma non voglio dirvi tutte le cose sbagliate che facciamo voglio dirvi semplicemente che purtroppo oggi non è più il momento di scherzare il numero dei contagi è aumentato in tutta la provincia è aumentato nella nostra riviera ionica è aumentato nella nostra comunità di santa teresa un dato mi conforta ed è rappresentato dal fatto che noi in questo momento abbiamo 43 positivi ce ne aspettiamo qualche altro perché ho ricevuto altre informazioni ma l'aspetto positivo se così si può dire di questa vicenda è rappresentato dal fatto che molti contagi e quindi l'aumento negli ultimi giorni dei contagi è stato anche determinato da una quarantena domiciliare che ha determinato il contagiarsi anche dei familiari nel senso che una persona è risultata positiva nella famiglia e di conseguenza poi si sono contagiati anche gli altri noi abbiamo cinque nuclei familiari che hanno un numero di contagi elevato che sono quindi molto circoscritti e che hanno contratto tutto il virus figli mogli marito tutti tutti quanti purtroppo però oggi c'è la necessità di aumentare il senso di responsabilità c'è un'altra vicenda che riguarda la nostra comunità e di cui vi parlo che è quella inerente l'attività commerciale del despar sapete bene che ci sono stati sono state due persone contagiate tra i dipendenti ieri sera è stata fatta la sanificazione ci tengo a sottolinearlo è stata stata fatta il tampone a tutti i dipendenti ieri sera si è verificato un ulteriore contagio e sia in attesa dell'esito di un altro dipendente sempre del del despar per cui stamattina in accordo con il titolare che ho sentito personalmente si è deciso di di chiudere io ho consigliato la chiusura per qualche giorno la sanificazione era stata già fatta e quindi il despar chiuderà per qualche giorno il tempo di sanificare se poi avrà la possibilità di riaprire con altri dipendenti o se comunque ci sarà un un esito dei tamponi che non desterà preoccupazione ovviamente loro potranno e riapriranno nel momento in cui tutto sarà in sicurezza io mi sono permesso da autorità sanitaria locale di consegnare consigliare la chiusura come così come credo sia giusto e devo dire che ho trovato la la massima disponibilità altra situazione e altra comunicazione che riguarda un'altra attività commerciale e bernava dove è stato trovato un dipendente anche lì positivo immediatamente anche loro hanno li ho sentiti nel momento in cui sono stato informato li ho sentiti insieme al comandante della polizia locale e ho consigliato loro la chiusura immediata dell'attività anche loro sono stati disponibilissimi nel accettare quello che era il mio consiglio perché poi alla fine al di là di quelle che sono le competenze credo che ognuno di noi debba fare la propria parte e quindi cercare di evitare quanto più possibile il contagio quindi anche bernava chiuderà se non lo ha già fatto io purtroppo fisicamente non come vi dicevo sono fuori ma se non l'ha già fatto è questione sicuramente di di poco per consentire una sanificazione dei locali per consentire a tutti i dipendenti di fare il tampone e per quindi avere una situazione di massima sicurezza e di garanzia nei confronti e dei dipendenti da un lato e allo stesso tempo nei confronti di quella che è tutta l'utenza serve però un senso di responsabilità maggiore non c'è bisogno che vi ricordo cosa si può fare e cosa non si può fare perché ci bombardano e vi bombardiamo tutti i giorni con quello che si può fare con quello che non si può fare c'è bisogno semplicemente che ognuno faccia la sua parte perché purtroppo questo maledetto virus non riguarda sempre gli altri prima o poi ci toccherà uno per uno allora se vogliamo evitare che questo avvenga non è che dobbiamo pensare che sono sempre gli altri che sbagliano e noi siamo sempre nel giusto perché prima sbagliare sono io e ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte come giusto che sia ci siamo rilassati va bene ok va bene ora basta però basta perché se no non ne usciamo più non ne usciamo mai ci vuole più responsabilità è vero ci vuole più senso di responsabilità ognuno è chiamato a fare la sua parte la deve fare punto e basta deve utilizzare la mascherina non c'è bisogno che quando vede passare il sindaco si alza la mascherina e si distanzia dalla persona con cui sta parlando sul muretto piuttosto che di fronte il bar piuttosto che in una qualche piazza perché purtroppo non è il sindaco a determinare se vi contagiate o meno non sono i vigili urbani a determinare se vi contagiate ed è inutile che mi scrivete se ci vogliono più controlli ma quanti vigili devo avere io quante persone devo avere per controllare un territorio come la nostra comunità con tutte le attività ordinarie che vanno avanti non ci non ci sono vigili che bastano l'unico modo realmente che noi abbiamo è quello di essere responsabili ognuno rispetto a quelle che sono le cose che gli appartengono e le cose che può fare cominciamo ad utilizzare la mascherina in maniera seria tutti quanti lo dico anche ai dipendenti di alcune attività commerciali non è possibile che ricevo giornalmente segnalazioni di attività commerciali in cui i dipendenti tengono la mascherina così non è uno sport la mascherina la mascherina va tenuta alzata per bene come si deve perché siete a contatto con migliaia di persone lo dico ai dipendenti e lo dico anche alle persone che si regano nelle attività commerciali perché è chiaro che ognuno la mascherina deve utilizzare nel modo giusto e consolo altrimenti non la mettete affatto perché è una presa in giro ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti nessuno escluso nessuno escluso io ora stamattina ho fatto un altro avviso che riguarda delle limitazioni per quanto riguarda il palazzo municipale non l'ho chiuso il comune è aperto e rimarrà sempre aperto qualsiasi sia il numero dei contagi però allo stesso tempo non posso consentire un via vai incredibile io ieri sono stato al comune tutto il giorno ho ricevuto oltre 40 persone e ricevo sempre tutto però allo stesso tempo se uno vede che ci sono già delle persone all'interno non è che si può fare quello che vuole per cui visto che la gente non lo capisce sono stato costretto sono stato costretto a contingentare gli ingressi ad orario con degli appuntamenti significa che materialmente tranne per le urgenze perché se ci sono delle urgenze e delle emergenze ci si rega al comune perché di fronte a un'urgenza e un'emergenza lo capiamo e lo capiscono tutti però se dovete rinnovare la carta d'identità e la carta d'identità sapete bene che anche se è scaduta è stata prorogata tutte le scadenze non c'è bisogno che vi fiondate al comune in 12 persone perché questo non ha senso allora per pagare le multe ci si può andare al comune chiamate vi prenotate e così riusciamo a gestire tutto nel modo corretto per quanto riguarda sto cercando sto cercando di leggere anche i commenti che arrivano per quanto riguarda le limitazioni di persone che possono stare all'interno delle attività commerciali ho mandato i vigili per l'ennesima volta ieri a fare il giro e comunicare ai titolari che devono evidenziare il numero delle persone che possono stare all'interno dell'attività commerciale ma non c'è bisogno che mandi vigili io non c'è bisogno che vengano i vigili a dirvi cosa dovete fare cosa non dovete fare perché da marzo ora sono passati non lo so dieci mesi e ancora stiamo discutendo di cosa si può fare di cosa non si può fare ragazzi ci vuole senso di responsabilità veramente ve lo dico sono preoccupato per la prima volta sono preoccupato perché ho sempre chiesto a tutti di mantenere la calma e di stare calmi e di stare tranquilli di non esasperare i toni di non esasperare gli animi però vi garantisco che adesso sono preoccupato e siccome sono preoccupato vorrei da parte di tutti che ci fosse maggiore attenzione perché non è una cosa difficile non ci possiamo lamentare poi se ci chiudono e ci sigillano il sindaco è cattivo il governo è cattivo lasciatele stare queste cose se ognuno fa la sua parte se ognuno fa la quarantena come si deve la mascherina come si deve non c'è bisogno di nulla non c'è bisogno di nulla ci serve semplicemente maggiore attenzione da parte di tutti per quanto riguarda la situazione delle scuole sapete bene quelle che sono le ordinanze che avevamo già fatto e ovviamente le disposizioni successive che sono arrivate sia da parte della regione che da parte del governo vedremo quale sarà l'andamento e di conseguenza si si deciderà il da fare io non credo che il problema siano le scuole però è chiaro che se il numero di contagi continua a crescere purtroppo anche le scuole ci andranno di di mezzo però dobbiamo necessariamente fare un momento di riflessione seria ed ognuno deve utilizzare la mascherina come si deve ognuno deve assumere gli atteggiamenti giusti perché se ognuno assume gli atteggiamenti giusti ci evitiamo tanti e tanti problemi anche perché sapete bene che le nostre attività commerciali già di suo sono in ginocchio e quindi questo vuol dire che ulteriori misure restrittive comportano delle situazioni ben più gravi che io voglio evitare ma non mi costringete però ad assumere degli atteggiamenti differenti perché altrimenti rischiamo veramente di andare tutti al collasso allora cerchiamo veramente di fare un minimo di attenzione vi ribadisco ripeto che da parte mia c'è la massima disponibilità abbiamo l'usca a santa teresa che abbiamo fortemente voluto l'assessore Lombardo sta facendo un lavoro straordinario e io lo ringrazio ma insieme a tutta la giunta a tutto il consiglio comunale a tutti i consiglieri comunali ringrazio il nostro corpo di polizia locale ringrazio tutti però ragazzi non mi potete bombardare quotidianamente di tutta una serie di cose che non funzionano quando alla base non funziona la prima cosa il senso di responsabilità di ognuno i nostri vigili fanno la loro parte la devono fare la continueranno a fare perché le disposizioni da parte mia sono chiare e non ci sono non ci può essere più tolleranza rispetto a una situazione di contagi che in continuo aumento non ce ne può essere più tolleranza mi dispiace ma è così però ripeto non dovete fare le cose perché vi sentite controllati non è questo il senso non è questo l'obiettivo dovete fare le cose dovete assumere gli atteggiamenti perché realmente capite che la situazione ci sta sfuggendo di mano perché quando avevamo un contagio a marzo ad aprile o addirittura zero stavamo belli e serrati dentro tutti quanti ora ne abbiamo 40 a santa teresa piuttosto che non lo so 300 400 500 in tutta la riviera e siamo belli rilassati tutti quanti non va bene non può andare bene e allora vi prego vi prego di essere più attenti e più responsabili vi ribadisco vi ribadisco un concetto molto semplice che quello che è l'unico elemento essenziale fondamentale rispetto a quelle che sono le esigenze e quindi una limitazione della diffusione del contagio e l'utilizzo di una mascherina le ffp2 quale volete voi l'importante che utilizzate indossate la mascherina bene dopo un anno vedere ancora nelle attività commerciali persone che utilizzano mascherina così e o così tipo tipo bandana di che cosa stiamo parlando stiamo parlando del nulla veramente del nulla e non mi dite ci vogliono più controlli ci vogliono ci vuole l'esercito che ci vuole ogni boom non lo so che cosa ci vuole ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti è un appello che faccio a cuore aperto un appello che vi faccio a cuore aperto perché ripeto altrimenti non ne usciamo più ancora ci attendiamo degli altri contagi perché ci sono stati comunicati ripeto noi stiamo facendo le attività di screening stiamo cercando di trovare anche delle persone asintomatiche perché vogliamo cercare di fare tutto quello che è possibile tutto quello che è nelle nostre possibilità abbiamo l'usca santa teresa abbiamo un tracciamento che cerca di essere fatto nel miglior modo possibile ma se non c'è la collaborazione da parte di tutti è inutile che io mi ammazzo la vita è inutile che l'assessore lombardo si ammazza la vita è inutile che i vigili provano a controllare tutte e tutti al di là di quelle che sono le attività ordinarie che vanno avanti e che devono andare avanti perché non è che io mi posso fermare al comune di oggi ci concentriamo tutti sul covid e il resto non funziona no io devo andare avanti perché voglio fare il sindaco e devo fare il sindaco e devo amministrare la mia comunità però però ripeto dovete necessariamente assumere un atteggiamento serio e responsabile perché il covid colpisce tutti nessuno escluso non guarda niente nessuno ed è inutile che continuiamo a pensare che il covid riguarda sempre gli altri perché o prima o poi riguarderà anche noi e quando riguarderà noi dovremmo capire materialmente come difenderci se ancora questi concetti non sono chiari dopo un anno veramente io non so a quale santo appellarmi per cui io continuerò a fare la mia parte come ho sempre fatto e come giusto che sia perché questo è il mio ruolo però mi aspetto da parte di tutti veramente un'assunzione di responsabilità seria e una volta per tutti ed è inutile che quando chiacchierate o scrivete su facebook dice ah ci vogliono i controlli il sindaco deve fare questo il sindaco è un bravo caruso e non fanno niente e qua e là non è questo il concetto lassate pedro sinu lassate pedro bravo caruso ognuno deve fare il suo ognuno deve fare il suo non ci vuole la frusta per capire che in questo momento ci dobbiamo stare belli e tranquilli ed evitare di farci la chiacchierata in piazza la domenica o di stare seduti sul muretto dieci persone senza manco mezza mascherino con la mascherina sotto il collo ma di che cosa stiamo parlando di che cosa stiamo parliamo veramente del nulla non è difficile non è difficile se non volete veramente arrivare o meglio se non vogliamo veramente arrivare con le pezze al culo perché di questo si tratta e scusatemi per il linguaggio vi prego veramente vi prego di cercare di fare tutto secondo quelle che sono le poche 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 regole ma essenziali per non arrivare ad una situazione estrema sapete bene che già la nostra comunità è esposta perché una comunità commerciale perché una comunità dove ci sono tantissime attività commerciali tantissimi uffici e quindi è chiaro che noi comunque necessariamente abbiamo gente che viene da fuori tutti i giorni ma dico io è così vera è così difficile comprendere queste poche cose io non credo e siccome credo che i miei concittadini sono tutte persone serie e responsabili mi aspetto da parte di tutti un comportamento idoneo chi non avrà questo comportamento e chi non seguirà le poche regole ci sarà tolleranza zero così evitiamo di fare tutte queste sceneggiate tutto questo babbio che non funziona vi prego siate responsabili io non ho nient'altro da aggiungervi come vi ho detto all'inizio della diretta vi ribadisco che quelle che sono le misure che abbiamo preso fino ad ora continuano ad essere vigenti riguardanti le scuole per quanto riguarda il despar vi ho detto che è stato ci siamo accordati con con il titolare e hanno predisposto la chiusura così come anche per quanto riguarda bernava perché in entrambe le attività commerciali purtroppo dei dipendenti sono risultati positivi e quindi io ho consigliato la chiusura immediata benché la sanificazione era stata già fatta anche qui ogni volta che c'è un caso una situazione ci divertiamo a 360 gradi a dire a non hanno fatto questo siamo tutti giudici bravissimi di tutti senza manco sapere quello che succede o quello che viene fatto ognuno faccia la sua parte perché noi noi sappiamo quello che avviene sul territorio non c'è la necessità di fare una diretta ogni mezz'ora perché io so quasi tutto di non voglio dire tutto ma quasi tutto di quello che avviene a santa teresa perché sono il sindaco non lo faccio per sbaglio il sindaco lo faccio con cognizione di causa ognuno faccia la sua parte non ci preoccupiamo sempre degli altri ognuno si preoccupa di se stesso che state tranquilli che non ci saranno difficoltà se ognuno fa la sua parte vi abbraccio scusatemi per per l'intrusione momentanea ovviamente se ci sarà necessità ci aggiorneremo man mano nel corso delle prossime delle prossime ore io cerco sempre di darvi tutte le comunicazioni possibili man mano che l'usca o meglio l'asp ci da e ci fornisce le informazioni rispetto al numero dei contagiati devo dire che molte persone già di suo ci informano man mano di quello che avviene e di quello che succede e quindi anche di possibili e potenziali casi positivi rispetto anche alla quarantena domiciliare cercate di prestare maggiore attenzione anche a questo perché quello che si è verificato nei giorni scorsi è che si è contagiata una persona della famiglia e dopo 3-4 giorni purtroppo tutta la famiglia è risultata contagiata noi ne abbiamo sei o cinque o sei famiglie che si trovano in questa situazione in cui ci sono tutti contagiati capisco che non è facile fare una quarantena in isolamento totale lo capisco però cerchiamo di fare di fare questo nel miglior modo possibile perché questo è l'unico modo che ci può dare una idea di quello che dobbiamo fare al contempo vi dico se ci sono esigenze di qualcuno che non è in condizione di fare una quarantena a casa come si deve ditemelo che è una soluzione in qualche modo la troveremo soprattutto se ci sono a casa persone anziane o persone che hanno difficoltà e quindi persone che possono essere ulteriormente esposte però vi prego dobbiamo veramente essere più serie responsabili un abbraccio buona giornata e mi raccomando occhi aperti e state attenti tutti perché nessuno è esente buona giornata io adesso vado a palermo all'assemblea regionale dove mi avete mandato a fare e a cercare di fare quello che è giusto che sia non solo per la comunità di santa teresa non solo per la riviera ionica ma per l'intera provincia di messina e per la nostra regione siciliana un abbraccio buona giornata e buon pranzo a tutti grazie a tutti